Ciao pezzolli, video collaborazione di un'azienda della quale vi ho già parlato non so se vi ricordate la giacca zombie, si dovreste ricordarvela perchè c'è un giveaway aperto ancora adesso mi arrivano le partecipazioni, quindi benissimo e sempre la stessa azienda, oltre che ad avermi mandato quella giacca bellissima mi ha mandato anche un'altra cosa, un altro prodotto e sono assolutamente emozionatissimo di questo prodotto perchè è una cosa fighissima anche qui mi sono scritto tutto e quindi vi leggerò perfettamente anzi no, prima vi faccio vedere il prodotto che trovate solo ed esclusivamente nel sito www.tattooaparel.com lo troverete nell'info box, chiaramente il loro sito e potrete trovare questa camicia perchè di camicia si tratta solo in quel sito lì e io vi consiglio di comunque dare un'occhiata perchè è una cosa fantastica io ve la faccio vedere allora questa è una, questa è la camicia e voi direte vabbè è una camicia rossa normalissima con questo disegno qua e no cari miei, assolutamente no, guardate questo leone, non so se vi ricorda qualche cosa a parte la fighezza e la grafica di questa camicia è fighissima non so se vi ricorda qualcosa questo leone con la corona in testa non vi ricordo proprio nulla? bene, ve lo dico io allora, questa è la Mission Lion Shirt ed è stata, è praticamente disegnata dallo stesso design che disegnava le cose per Michael Jackson questa non è altro che la camicia originale originale nel senso che non è chiaramente quella che indossava lui ma è quella che ha disegnato il suo design quindi, cioè, questa è la camicia originale che indossò Michael Jackson mentre stava facendo le prove del suo ultimo tour al quale purtroppo poi non ha mai preso parte perchè, se voi vi ricordate il suo ultimo docu film This Is It lì trovate lui che indossa questa bellissima e fighissima camicia, non mi veniva il termine camicia ed è bellissima ora io me la metterò è bellissima e mi sta divinamente, cioè, guardate è fighissima è assolutamente fighissima cioè molto bello oddio mi gira la testa e, cioè, allora io non so se potete osservare i particolari è piena di sbrillozzicozzi esattamente come nello stile di Michael Jackson chiaramente è una taglia M ed è perfetta perchè oltretutto c'è scritto che loro hanno spedito la taglia M perchè la maggior parte dei fan di Michael Jackson ha sempre comprato le sue cose con la taglia M quindi hanno fatto anche proprio una ricerca di mercato ed è bellissima è davvero 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 fighissima cioè mi piace un casino allora praticamente se voi appunto accedete al loro sito quindi www.tattooapparel.com e volete, come dire guardare un attimo questo tipo di prodotto o comunque comprarlo vi do il codice così almeno una cosa più vi consiglio comunque di dare un'occhiata alle loro cose perchè hanno cose davvero molto carine il codice di questa camicia è esattamente il B150 ve lo scriverò semmai qui da qualche parte B150 e lo trovate solo ed esclusivamente nel sito di cui vi ho che vi ho appena citato insomma www.tattooapparel.com ora voi andate a dare un'occhiata ovviamente ma questa azienda esattamente come per la giacca zombie è molto molto professionale quindi che cosa ha pensato di fare? di fare un altro giveaway e il vincitore di questo giveaway si porterà a casa che cosa? la stessa identica camicia cioè è assolutamente la stessa io ve la faccio rivedere ho tentato guardate la professionalità cioè bene chiusa con la sua plastica in modo che non si che non si rovini io vi faccio ancora vedere tutto il dettaglio del disegno vedete tutti i brilluzzicozzi il leone con la corona ovviamente e sotto ci sono le iniziali di Michael Jackson chiaramente cioè è proprio la stessa ragazzi è la stessa io non so se voi avete visto This Is It ve lo consiglio che voi siate fan di Michael Jackson o meno Michael Jackson ha fatto la storia della musica è un fucking genio e dovete guardare il suo ultimo docufilm assolutamente perché ha fatto realmente la storia cioè non il docufilm Michael Jackson chiaramente quindi chiunque di voi voglia partecipare a questo giveaway quali sono le regole per partecipare? 1 essere iscritti chiaramente al mio canale 2 condividere il video allora ho scoperto che voi non mi potete taggare va bene io vi crederò come dire sulla parola poi una volta che andrò a fare l'estrazione del vincitore mi accerterò che abbia fatto tutto quanto quindi essere iscritti al mio canale condividere questo video su uno dei social che avete che sia twitter google plus facebook non lo so qualsiasi cosa 3 andare sulla pagina dei social network di questa di questo sito qua ovvero www.tattooaparel.com quindi se vi accedete al loro sito trovate ovviamente la pagina facebook twitter cose così quindi dovete seguirle almeno in uno di questi social e quarta cosa ovviamente lasciare un commento con scritto partecipo così io so chi vuole partecipare o meno semplicemente che poi le regole sono sempre le stesse anche per gli altri giveaway perciò mi raccomando partecipate in molti perché se volete una cosa che ha posseduto Michael Jackson o comunque che ha fatto un design chi ha lavorato Michael Jackson partecipate numerosi merita assolutamente il giveaway scadrà esattamente fra un mese io ora non so quando pubblicherò questo video però lo farò durare un mese quindi dalla data di pubblicazione durerà un mese comunque nell'info box troverete quando scadrà praticamente mi raccomando partecipate numerosi io ringrazio ancora questa azienda perché sono stati fantastici super super professionali stiamo ancora in contatto ogni tanto ci sentiamo fantastici davvero ce ne fossero aziende così ma realmente ce ne fossero questa è ancora la camicia che oltretutto oh ma mi sta davvero da dio ciao io ci vado in giro assolutamente ragazzi è fighissima davvero fighissima molto bene partecipate numerosi al giveaway e basta bacio abbraccio come al solito e ci vediamo nel prossimo video ciao pezzini ciao ciao pezzini ciao 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 ciao